Gli abruzzesi è da tantissimo tempo che aspettano una nuova legge urbanistica. Noi immaginiamo una nuova legge urbanistica che sappia innanzitutto contemplare anche il cambiamento che c'è stato del mondo. Dal 1983, che è l'ultima legge urbanistica che ha la regione Abruzza, ad oggi sono cambiate tantissime cose. Dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, è chiaro che la nuova legge urbanistica deve farsi interprete del cambiamento sociale che ha avuto non solo l'Abruzzo ma tutto il mondo. Ma soprattutto io vorrei porre l'accento sul metodo che stiamo adoperando, un metodo assolutamente innovativo di coinvolgimento dei cittadini abruzzesi perché noi questa legge la vogliamo scrivere insieme agli abruzzesi. Per questo motivo abbiamo predisposto e elaborato una piattaforma digitale informatico sulla sito della regione Abruzzo dove i cittadini, gli enti locali, gli ordini professionali, le province, i comuni possono prendere visione delle linee guida approvate dalla giunta regionale e proporre delle osservazioni, delle proposte che poi noi elaboreremo e scriveremo proprio insieme come la nuova legge urbanistica. Quindi una legge urbanistica non scesa dall'alto ma in sostanza che si sviluppa dal basso per poi arrivare a una legge la più condivisa possibile. È chiaro che gli obiettivi sono tanti. Innanzitutto direi è quella di centrare appieno le tematiche inerente alla transizione ecologica. Siamo nell'epoca del Green Deal quindi è fondamentale sviluppare una cultura dell'urbanistica che vada verso uno sviluppo sostenibile. Però la transizione ecologica deve essere accompagnata anche da una transizione burocratica. Quindi snellire, maggiore chiarezza, pochi articoli ma chiari. Dobbiamo sapere chi fa cosa senza più confusione. Questi sono gli obiettivi. In sostanza il concetto chiave è che noi vogliamo riporre al centro della pianificazione l'uomo e il suo ambiente naturale. Quindi puntare non più tanto sulla quantità rispetto al passato ma più che altro sulla qualità degli interventi.